Buongiorno da FTA Online, avvio positivo questa mattina per la borsa, il Fuzzimib infatti si è spinto fino ai 24.850 punti circa e in questo momento è in leggera flessione, comunque sempre in guadagno rispetto alla chiusura di ieri, siamo intorno ai 24.810 punti, bene anche la borsa americana, non nel senso che ieri ha fatto registrare un saldo positivo, infatti vedete il Dow Jones praticamente ha terminato in parità, però la figura che si è venuta a creare queste due candele che si incontrano, infatti questo pattern si chiama Meeting Lines, ovvero sia la chiusura di due giorni fa coincide con la chiusura di ieri, però vedete quella di ieri là è una candela positiva, quella di ieri invece è una candela negativa, ma non c'è stata una penetrazione del corpo della candela di ieri all'interno di quella del giorno prima, quindi potrebbe essere una semplice figura di continuazione, quello di ieri potrebbe essere stato solo un rallentamento dovuto alla presenza di questa forte area di resistenza, conserva quindi intatto l'indice americano la possibilità di salire ancora, certo se le quotazioni del Dow dovessero scendere sotto di area 29,2 il quadro grafico cambierebbe, però per adesso, ripeto, l'andamento di ieri non ha messo in discussione la propensione rialzista dell'indice. Passiamo adesso a un paio di temi interessanti, volevo guardare prima di tutto il crude oil e questo è il future per farvi vedere che siamo arrivati su un livello di supporto molto importante, se tracciamo la linea di tendenza che parte dai minimi del 2016, vedete praticamente è stata avvicinata dai minimi delle ultime sedute che a loro volta sono a ridosso della base di questa fase laterale, minimi di giugno e di agosto, intorno ai 50,5 dollari. In quell'area si è disegnato questo potenziale doppio minimo, una figura rialzista che verrebbe confermata sopra il massimo del 6 di febbraio a 52,20, in quel caso potremmo assistere ad un movimento di rimbalzo a correzione di tutta questa veloce fase di discesa. È interessante guardare il crude oil in questo momento perché appunto siamo in una zona di supporto importante, se le quotazioni scendere sotto area 49 sarebbe un segnale di debolezza molto grave perché in quel caso tutta questa fase laterale diventerebbe un punto di partenza per una fase ribassista di ampiezza elevata, infatti in quel caso il nostro trading range verrebbe ribaltato verso il basso, almeno la metà del nostro trading range verrebbe ribaltato verso il basso, il che vorrebbe dire vedere scende le quotazioni di altri 7-8 dollari, perciò avvicinarsi in area 41-42, quindi tornare sui minimi del dicembre 2019 e questo sarebbe un segnale negativo per la borsa, adesso vediamo perché, se invece il supporto di area 49-50 tiene e ci sarà poi la rottura di area 52-20, avremo un segnale di forza per il petrolio che potrebbe essere positivo anche per la borsa, perché dico questo se andiamo a confrontare l'andamento del MSC World con quello del petrolio, vedete come i punti di svolta e le tendenze siano effettivamente sincronizzati, quindi quando c'è una fase di debolezza della borsa c'è anche una fase di debolezza del greggio, è vero che negli ultimi mesi questa sincronia in parte si è andata a perdere, però vedete nonostante tutto quando il petrolio è stato in difficoltà, in difficoltà è stata anche la borsa e viceversa nel momento in cui il petrolio ha messo in evidenza dei movimenti di rialzo importanti, la stessa cosa ha fatto anche la borsa, dubito che se il greggio scendesse sotto area 49 questo sarebbe un contesto positivo per la borsa, al tempo stesso fino a che il petrolio sarà sopra questa trend line e se poi dopo dovesse completarsi il piccolo doppio minimo che abbiamo evidenziato, in quel caso non ci sarebbero problemi a vedere proseguire il trend crescente del mercato azionario, in quel caso il nostro MSC World avrebbe ancora un discreto spazio rialzo perché potremmo vederlo salire almeno sul lato alto di questo canale crescente, vedete il lato alto del canale passa intorno ai 2495 di MSC World, pertanto petrolio è da seguire anche in questa ottica intermarket e soprattutto in questo momento dove si è avvicinata questa importante area di resistenza. Guardiamo adesso rapidamente il settore delle banche, visto che oggi l'analisi dei titoli italiani sarà concentrata proprio sul settore bancario, c'è stato un segnale importante di forza con la rottura di questa resistenza, dopo il superamento delle resistenze i prezzi hanno accelerato in modo evidente a rialzo, siamo evidentemente per adesso ancora in una fase correttiva rispetto a quella che era stato il ribasso dai massimi del 2018, però vedete nella seduta di ieri e di ieri l'altro i prezzi sono arrivati a confrontarsi con il 50% di rifiacciamento di quella resistenza, in questo momento siamo col settoriale a 99,81 circa, i massimi di ieri erano stati toccati a 99,46, 99,47, pertanto prosegue la fase positiva e verrebbe confermato con il movimento di oggi il superamento del 50% di retracement della precedente fase ribassista, quindi il target a questo punto potrebbe essere quello dei 10.500 punti, ovvero sia il 61,8% di rifiacciamento, potrebbe esserci una fase di ripiegamento? Sì, perché dopo l'accelerazione delle ultime sedute non si può escludere che ci sia un temporaneo di ripensamento, però a questo punto direi che i prezzi potrebbero limitarsi a toccare dall'alto questo massimo in area 9.700 per poi ripartire al rialzo, quindi se ci dovessero essere degli aggiustamenti sul comparto banca, secondo me in questa fase sarebbero da considerare una buona opportunità per comprare ancora. Il confronto tra il nostro indice settoriale e quello europeo, quindi l'Eurostox banca, tutto sommato è in favore del nostro, vedete ormai da più di un anno che la tendenza della forza relativa è crescente, quindi vuole dire che l'Eurostox, scusatemi, il Banca Italia sovraperforma l'Eurostox banca, negli ultimi due o tre mesi questa fase si è un po' persa perché si è messo in laterale il grafico di forza relativa, ma l'impressione è che questa tendenza a rafforzamento possa riprendere, visto che c'è stata la rottura di questa linea di tendenza, quindi direi che il quadro per le banche è positivo, ripeto c'è il rischio di una temporanea fase di ripiegamento nel breve, ma dovrebbe essere limitata e se dovesse verificarsi potrebbe rimostrarsi una buona occasione per entrare su prezzi più bassi degli attuali. Iniziamo la nostra carrellata con UbiBanca, questa mattina va molto bene, già ieri aveva messo a segno un bel rialzo, già ieri aveva dato indicazione di forza superando il massimo del 26 di novembre a 3.09, questa mattina siamo a 3.22, c'è stato anche il superamento del lato alto di questo canale, il classico flag di continuazione, vedete i prezzi sono mosse all'interno del canale, quando hanno rotto il lato alto c'è stata questa bella accelerazione, a questo punto si può immaginare che il prossimo target sia dato dal limite superiore del canale che parte dai minimi di agosto, ecco la nostra linea parallela, il target inizialmente sarà intorno agli 3,35€, 3,36€. Banco BPM ha un andamento analogo, anche se ancora non ha fatto registrare noi i massimi, però anche qui c'era questa fase contenuta all'interno del canale che può essere vista come nel caso di UbiBanca come un flag, è evidente che a questo punto sarà necessario il superamento del massimo di ottobre a 2.22 per confermare questa ipotesi, però vedendo come si sta muovendo il comparto e gli altri titoli, l'idea che il minimale a 2.22 possa essere messa alla prova c'è, se poi i prezzi adesso salire anche oltre quei livelli diventerebbe veramente interessante il titolo perché si potrebbe ipotizzare il ribaltamento verso l'alto di tutto questo trading range, quindi a quel punto avremo la possibilità, vedete questa è la fase laterale che verrebbe ribaltata verso l'alto per dare un target intorno ai 2,90€, quindi Banco BPM sicuramente molto positivo a meno che i prezzi non ritornino al di sotto dei 2,05€. Di per banca anche lei questa mattina sta dando un segnale di forza, il livello di resistenza da superare è quello dei 4,65€, quindi siamo ancora un po' al di sotto di quei livelli, il ribasso che c'era stato dal massimo del 10 gennaio si è limitato a ritracciare circa il 38,2% della fase di salita precedente, quindi niente di grave, rimane pertanto un ribasso di tipo correttivo, anche in questo caso il titolo sta correggendo la presente fase ribassista, in questo caso quella partita dal gennaio del 2017, vedete siamo arrivati su un livello di resistenza importante che è il 61,8% di ritracciamento di quella fase di discesa, se dovessimo salire oltre 4,70€ si aprirebbe la strada per il testo di 5,15€, 5,20€ almeno. Direi quindi che anche B per banca è da seguire con attenzione, magari in questo caso prima di intervenire si potrebbe prudentemente attendere la rottura anche di area 4,70€, secondo me però già su prezzi attuali si possono iniziare ad effettuare delle operazioni d'acquisto magari da incrementare poi successivamente. Lasciato per ultimo Montepaschi che non è nel paniere Fuzzimib ma che sta probabilmente accumulando, c'è questa fase laterale che si sta sviluppando da alcune settimane, l'atto alto del trading range a 1,95€, viste le caratteristiche del titolo meglio aspettare il segnale di rottura prima di intervenire, però questa scala a rialzo che i prezzi stanno disegnando ormai da alcuni mesi sembra convincente e sopra 1,95€ secondo me c'è la possibilità di vedere salire ancora bene il titolo, è evidente che questo è un titolo che verso l'alto ha spazi molto ampi per muoversi perché è reduce da una fase prolungata ed è stesa di ribasso, quindi anche se correggessero solo una piccola porzione della ultima fase della discesa, quindi quella partita dai massimi della fine 2016 ci sarebbe tanto spazio da percorrere, un primo target comunque questo di area 2,15€, quindi sopra 1,95€ target a 2,15€. Penso di aver esaurito il discorso sulle banche, però se ci sono domande da parte vostra come sempre siete liberi di farle andando sulla nostra pagina Facebook, la pagina di Financial Trend Analysis, vi auguro quindi buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.